All'epoca era di proprietà dell'azienda Fratelli Bertoldo di Forno Canavese, dove tuttora c'è lo stabilimento produttivo della nostra azienda. È stato registrato poi ufficialmente un po' più tardi, perché è stato registrato nel 1943, ma già da fine ottocento era attivo e utilizzato sui prodotti. In particolare all'epoca si facevano dei macinacaffè, che sono stati un prodotto storico che noi abbiamo avuto e che abbiamo tuttora sul nostro catalogo, quindi attraversano proprio tutti i 125 anni della storia della nostra azienda, proprio quest'anno.